Signori buongiorno a tutti, ci troviamo a Oliveto in una zona residenziale ma a meno di 3 km dalla salaria, la vedete insomma una via tutta perfettamente curata di villini, una parte molto anche abbastanza alta e ben esposta soprattutto anche panoramica, l'immobile che presentiamo praticamente è questa villa di circa 250-260 metri quadrati che praticamente da confine a quella parte insomma del muretto di cinta tutto completamente bianco, un muretto di cemento armato con questo bell'ingresso, c'è carrabile petonale, una villa divisa in due appartamenti quindi una piano terra, una piano superiore di identica metratura, di identica distribuzione degli spazi interni, secondo me ottimo per due famiglie che poi diciamo o per un discorso del weekend o per un fattore diciamo proprio di trasferimento vero e proprio c'è la possibilità insomma di poterle adattare. facciamo un giro esterno, questa qui è tutta la parte del parcheggio diciamo pure che comprende tutto lo sfogo esterno, questa parte vediamo il bombolone GPL, qui dietro poi c'è questo ricovero attrezzi che praticamente poi gira tutto intorno alla proprietà, al pieno terra l'ingresso lo vediamo, insomma sta proprio sotto a questa bellissimo diciamo sia portico ma sia nello stesso tempo poi scala che dà al piano superiore, su questa nostra sinistra troviamo un po' incolto leggermente ma l'immobile veramente è in perfetto stato, tutto il giardino c'è qualche albero da frutto, qualche ulivo, lo vedete una bellissima mimosa dalla parte retrostante che adesso purtroppo ha dato già i suoi fiori però, dico purtroppo perché insomma sarebbe stato meglio se fosse stato in fiore, questa era l'alloro e qui poi praticamente sono i vari affacci, le varie parti insomma di affaccio dell'appartamento al piano sottostante che adesso noi andremo a vedere, quindi questa è tutta la parte esterna che poi ritornando dalla parte retrostante dove c'è la mimosa andiamo a riabbracciare la proprietà sull'intero lotto, allora andiamo diciamo al piano sottostante a vedere l'abitazione, un'abitazione io molto probabilmente presumo degli anni 80, con rifiniture degli anni 80 e con tutta una serie ovviamente di optional tra virgolette risalenti a quell'epoca, cioè il sistema di riscaldamento, lo vedete qui c'è un bellissimo disimpegno, un comodo corridoio così come si usava una volta insomma con le varie poi diramazioni sulle varie zone insomma dell'immobile. Ecco qui sulla sinistra troviamo la cucina, molto spaziosa diciamo una cucina con un angoletto cottura, eccolo qui, perché poi c'è una cucina doppia perché poi dall'altra parte c'è il salone, da questa parte c'è il cosiddetto angolo cottura, no? Perché poi qui di consueto si usava insomma cucinare per poi tramite questo archetto qui apparecchiare, insomma una bellissima situazione. Da questo lato c'è anche il caminetto, gli infissi in alluminio col doppio vetro e qui poi c'è la faccia diciamo sull'esterno dove noi abbiamo avuto modo di vedere precedentemente. Sul corridoio torniamo e qui c'è proprio il vero e proprio salone perché ovviamente l'immobile attualmente spiccio stanno diciamo traslocando quindi eventualmente sarebbe anche libero da subito con un'altra porta finestra che da poi sempre sul giardino esterno che noi abbiamo visto. Una bellissima situazione secondo me come ripeto per un nucleo familiare composto da da alcune acquirenti insomma che compongono un doppio nucleo familiare. Poi qui c'è un archetto che ci porta sulla prima camera da letto molto spaziosa, credo forse 20-22 metri quadrati a camera, insomma una cosa molto grande. Il bagno con la vasca anche questo è in perfetto stato, come ripeto rifinitore anni 80 ma veramente molto molto ben tenute e qui c'è una seconda camera da letto. Ovviamente gli spazi interni sarà da ridimensionarli a seconda delle vostre esigenze per una metratura molto importante che avete visto insomma su queste immagini. Riuscendo all'esterno noi prendiamo una rampa di scale che ci porta poi sul secondo appartamento al piano di sopra che è perfettamente speculare sia nelle rifiniture e sia poi nella metratura che nelle dimensioni dei spazi interni. Questo poi è il bel portichezza esterno dal quale diciamo possiamo vedere tutta questa bellissima visuale che poi vedremo soprattutto anche dal balcone. Come ripeto identico, l'unica cosa che cambia forse è una manzardina qui sfruttabile e il cammino che praticamente è stato spostato pieno sotto era lì, adesso da quest'altra parte però sostanzialmente diciamo cambia veramente poco. Ecco qua, sempre la consueta archetto con l'angolo cottura, la caldaia da vedete, complessivamente secondo me veramente pochissimi lavori da fare se non riadattarla diciamo ad alcune esigenze. Qui poi c'è questo lunghissimo balcone che praticamente viene dovuta l'abitazione dal quale è possibile vedere e godere questa bellissima anche visuale. Come ripeto una zona residenziale abitata, da vedere, ben poco distante anche dalla salaria. Qui ritorniamo, ovviamente il salone, lo vedete qui sgombro quindi vedete anche la bellissima, la grandissima diciamo tra virgolette anche così metratura che offre. salone forse di 30, 35, 40 metri ma adesso poi metro più, metro o meno è da verificare. La camera, bagno sempre con la vasca e l'altra camera. Forse è una tinteggiata insomma ma veramente poca roba. ecco qua. I signori con queste immagini vi ringrazio e vi do un appuntamento alle visite. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.